I ministri della difesa di Washington e di Seoul hanno discusso il 30 agosto scorso la possibilità di rischierare armamenti nucleari statunitensi in Corea del Sud, a riferirlo è il Washington Post. Sebbene in passato il presidente sudcoreano Moon Jae-in avesse escluso un simile scenario, il ministro della difesa Son Yong-mu pensa si tratti di un'opzione da valutare attentamente. Di altro avviso Berlino, che vede nell'operato di Pyongyang un tentativo di difendere il paese da possibili attacchi esterni. Per il ministro degli esteri tedesco Sigmar Gabriel, il problema nucleare della Corea del Nord può essere risolto fornendo a Pyongyang adeguate garanzie di sicurezza. Garanzie che però non salvarono la Libia di Gheddafi dalle bombe occidentali. E mentre l'Occidente discute il destino della Corea del Nord, Pechino lancia un appello per rompere il circolo vizioso in cui la penisola coreana sta affondando, esortando tutte le parti a ripristinare un dialogo pacifico. A pochi giorni dal referendum sull'indipendenza del Kurdistan iracheno, si intensifica la pressione della comunità internazionale sul governo di Erbil. Con il pretesto di condurre un'operazione antiterrorismo nel sud-est della Turchia, Ankara ha dislocato le proprie truppe al confine con l'Iraq, mentre Teheran ha annunciato la possibile chiusura del confine con il Kurdistan se quest'ultimo dovesse autoproclamarsi indipendente. Intanto la Corte Suprema di Baghdad ha ordinato la sospensione del referendum, previsto per il prossimo 25 settembre. Il premier iracheno Haider al-Abadi ha già annunciato che, in caso contrario, il suo risultato non sarà riconosciuto da Baghdad. Da parte loro, le autorità kurde si sono dette pronte a trattare, a patto che l'Iraq avvii trattative concrete e serie sull'indipendenza della regione, entro una data prestabilita e con garanzie internazionali. Turchia, Francia e le Nazioni Unite sono già al lavoro per sviluppare una proposta in grado di soddisfare entrambe le parti. In una mossa senza precedenti, l'Arabia Saudita ha dato l'ordine al social media statunitense e Snapchat di bloccare articoli e video del canale Discover della TV catariota Al Jazeera. Violano le leggi locali in merito a materiali pubblicati e a crimine cibernetico e noi cerchiamo di aderire alle leggi dei paesi in cui operiamo. Questa la dichiarazione ufficiale della compagnia statunitense. A parlarne per primo il Wall Street Journal, domenica 17 settembre. Il messaggio è che qualsiasi paese può mettere a tacere una voce dissidente facendo pressione sui padroni dei social. Un chiaro attacco alla libertà dei giornalisti di tutto il mondo. Con 8 milioni di utenti, soprattutto teenagers, Snapchat è una delle piattaforme più diffuse del paese. Fu inaugurata dopo l'incontro d'affari del 2015 fra il principe Saudita Al-Walid Bin Talal, presidente della Kingdom Holding Company, e l'amministratore delegato della Snapchat Ivan Spiegel. Non è tuttora chiaro se i sauditi abbiano poi investito i 200 milioni di dollari discorsi in quell'incontro. Il movimento islamista palestinese Hamas, che dal 2007 controlla la striscia di Gaza, ha annunciato domenica scorsa lo scioglimento del proprio comitato amministrativo, dicendosi pronto ad avviare un dialogo con l'autorità nazionale palestinese, al potere in Cisgiordania. Per le autorità palestinesi, che in passato avevano più volte esortato il movimento islamista a cedere il potere a Gaza, il passo di Hamas è positivo e promettente. Tra le condizioni avanzate dall'autorità nazionale palestinese e accettate per intero da Hamas, anche lo svolgimento di elezioni generali palestinesi che comprendano sia la Cisgiordania che la striscia di Gaza. Per la prima volta dalla sua fondazione, Israele avrà una base militare straniera sul suo territorio nazionale. Si tratta della base aerea situata nella località di Mashabin, nel deserto del Negev, dove verranno dislocate forse dell'Air Force degli Stati Uniti. Ad annunciarlo è stato il generale di brigata Zvika Haimovic, che attraverso le colonne di Time of Israel ha tenuto a specificare che la decisione non è legata all'attuale situazione politica e militare nel Medio Oriente, visto che, conclude il militare, le trattative per l'apertura della base sono andate avanti per qualche anno. Saranno pur vere le considerazioni dell'alto ufficiale israeliano, ma non si può non notare come ai confini dello Stato israeliano la situazione è particolarmente turbolenta. A Est si combatte una guerra sanguinosa tra il legittimo governo siriano e i suoi alleati russi e iraniani contro l'Isis. A sud l'Egitto del generale al-Sisi è sempre di più nella sfera di influenza russa e a nord la Turchia di Erdogan ha ormai un piede fuori dalla NATO. Certamente non una situazione tranquillizzante per Israele e l'apertura della base americana manda comunque un segnale a tutti gli attori della turbolenta regione. Nuova tegola per il Movimento 5 Stelle in Sicilia. Il Tribunale di Palermo ha infatti invalidato l'esito della consultazione online con cui lo scorso 4 luglio gli attivisti avevano designato i candidati consiglieri da presentare alle ormai prossime elezioni regionali. Tutto da rifare dunque? Secondo il candidato ufficiale del Movimento, Giancarlo Cancelleri, non se ne parla neppure. Il tempo è scaduto, scrive sul blog di Beppe Grillo, e l'unica opzione sul campo è di presentare un ricorso per far valere le proprie ragioni. Di diverso avviso Mauro Giulivi, l'attivista che lo staff del Movimento aveva escluso dalla consultazione a causa di un vizio di forma. Secondo Giulivi i tempi per replicare la consultazione ci sono, basterebbero tre giorni, tuona dalla sua pagina Facebook. Dunque nessuno sa come si verrà fuori da questo pasticcio. L'unico dato certo è che le lancette corrono. Il termine per la presentazione dei simboli è infatti sabato prossimo, mentre per le liste elettorali il tempo scade il prossimo 6 ottobre. Grazie a tutti.